Buon pomeriggio a tutti, sono Olimpia Niglio, sono professore di storia dell'architettura comparata qui in Giappone dove lavoro da alcuni anni ed è un piacere oggi essere con voi in occasione della inaugurazione del Master in territori digitali coordinato dalla professoressa Letizia Bindi. Per questo consentitemi di rivolgere un cordiale saluto alla professoressa Bindi e un ringraziamento all'Università degli Studi del Molise per questo gradito invito. Inizio la mia presentazione con due figure emblematiche della metà del secolo scorso. Alla vostra sinistra potete vedere Akito Morita che nel 1946 fonda a Tokyo la Sony che conoscete molto bene e dall'altro invece una figura molto ben nota in Italia che è quella appunto di Adriano Olivetti che in questi stessi anni era fortemente impegnato nei processi di tecnologizzazione e di informatizzazione del nostro paese. Due storie parallele, due storie completamente differenti, una più fortunata quella della Sony, l'altra meno fortunata ma non con questo meno importante. E quindi ritengo fondamentale iniziare questo nostro colloquio proprio ricordando queste due figure, Akito Morita e Adriano Olivetti, perché sono stati due grandi personaggi che si sono occupati della innovazione e della tecnologizzazione dei territori. In Giappone esiste già dal 2015 un programma Society 5.0 che introduce questo tema soprattutto rimettendo al centro il valore della persona e di come le tecnologie devono essere a servizio della persona e non sottomettere la persona. È un programma molto interessante sviluppato dalla Tokyo University insieme a molte compagnie che si occupano ovviamente dello sviluppo delle tecnologie informatiche ma su cui torneremo più avanti. Però mi sembra molto interessante iniziare precisando che in Giappone esiste un programma su cui si sta lavorando. Il Giappone sapete anche che è un paese perlomeno nell'orbita mondiale conosciuto come il paese delle grandi tecnologie, il paese che produce tecnologia o anche si ha un po' nell'immaginario l'idea che questo paese sia fortemente tecnologizzato. Quindi che cosa emerge? Emerge ovviamente che c'è e ci sono importantissimi programmi di tecnologizzazione e di innovazione a tutti i livelli, dalla produzione degli automobili, delle motociclette, alla produzione della robotica. Questo è molto importante questo tema, anzi c'è anche una fortissima collaborazione proprio con le accademi italiane e in particolare con la scuola normale di Pisa e con la scuola Sant'Anna. E poi tutto quello che riguarda ovviamente la comunicazione. Tutto questo però trova una realtà alquanto differente all'interno del paese. Cioè i residenti, coloro che vivono all'interno del paese, usufruiscono in maniera veramente parziale di tutto questo, grande produzione di tecnologia. Il Giappone infatti vende tecnologia, utilizza a quanto poco tecnologia. Ora cerco di spiarmi. Lo faccio attraverso questa immagine, scusatemi un'immagine che ho scattato di alcune carte, lettere che mi arrivano eccetera. Allora queste che cosa sono? Sono tutte carte, tutte lettere, tutte buste che si riferiscono alla documentazione con cui l'università comunica con me. Quindi io ogni giorno, ogni settimana, qualsiasi comunicazione io debba ricevere dall'università, questa mi arriva per posta. Non esiste nessuna comunicazione a livello digitale, cioè nessuno nell'università comunica documenti, programmi, eventi, se non attraverso la carta. Quindi attraverso lettere che arrivano a casa, non arrivano neanche nella casella dell'università, ma arrivano invece a casa. E quindi tutto assolutamente secondo un processo che invece in molti paesi addirittura è anche quasi del tutto scomparso. Quindi a livello istituzionale non c'è alcuna attenzione ad evitare tutto questo, cioè l'informatizzazione, la tecnologizzazione dei processi non è assolutamente attiva. Questo lo possiamo vedere all'interno anche delle scuole. Io sto curando già da un anno e più ormai un programma pedagogico che viene adesso applicato anche in tante scuole qui in Giappone, il programma R Connecting with Your Culture. Questo programma entra nelle scuole non attraverso sistemi di informatizzazione, non attraverso internet o altro, ma attraverso colloqui diretti ed invita gli alunni direttamente a interagire con quello che è il proprio patrimonio culturale. Quindi non c'è assolutamente alcun uso di tecnologia. Vi mostro queste immagini anche per mostrarvi come sono organizzate le aule ad esempio in un kindergarten come può essere questo o anche una nostra aula universitaria dove non c'è assolutamente quasi nulla, nessun supporto informatico se non quando vogliamo che possiamo utilizzare dei powerpoint ma generalmente si usa ancora molto volentieri la lavagna e i pennarelli o anche i gessetti. Quindi vi posso assicurare che all'interno dell'università anche le aule non hanno grandi supporti assolutamente informatici. Ecco tutto questo a differenza di un'immagine voi siete più abituati semmai a vedere il Giappone attraverso questo tipo di immagine che è quello invece che ti mostra un Giappone assolutamente rivoluzionario, innovativo, trasgressivo, diciamo anche molto irriverente. In molti casi scusate in questa parola ma è proprio così ecco questo come sempre io dico è un vestito è un semplice vestito che nasconde poi dietro un forte conservatorismo. Cioè voi dietro queste facciate di luci di grandi effetti eccetera di grandi queste grandi forme estremizzate in realtà si nasconde veramente un forte conservatorismo. E quindi si nasconde quello che vi ho mostrato prima cioè le comunicazioni attraverso le lettere, nessuna comunicazione attraverso internet, io non ho i social sul mio telefono giapponese, non ho assolutamente uso il cellulare quasi niente, pochissimo perché neanche le comunicazioni avvengono se non che ci si incontra per parlare. E tutto quindi in maniera perlomeno in ambito universitario avviene questo e quindi oppure ci si incontra in una caffetteria, in un ristorante eccetera. Ecco ancora esiste questo discorso dell'incontro. Ora voi mi direte che cosa è successo durante la pandemia. Durante la pandemia qui non c'è stato il lockdown quindi il tema non si è posto. Ecco però che cosa succede a tutto questo? A tutto questo succede anche che soprattutto nelle giovani generazioni si sta determinando un fenomeno che adesso invece soprattutto tantissime università e facoltà anche di psicologia stanno analizzando. Perché ecco al di fuori diciamo di questo ambiente particolarmente conservatore, fortemente conservatore, il tema è che le giovani generazioni invece sono completamente sopraffatte, assue fatte dall'uso del cellulare. Non è tanto l'uso diciamo di computer o altro, no, proprio l'uso estremamente esclusivo del cellulare. Un sistema che consente loro ad esempio, che consente anche tutti noi di poter fare acquisti, di poter vedere dei video, di poter assistere a degli eventi eccetera. Ma soprattutto di fare acquisti ecco allora se voi siete in metro ecco questa è una immagine che ho scattato tale tante che ho scattato in metro. In realtà lo scenario è quasi sempre questo cioè di persone sedute ognuna isolata una dall'altra attraverso un cellulare. E che cosa vedete? Che cosa vedono queste persone? La maggior parte delle persone vedono pubblicità, la maggior parte delle persone sono lì per comprare. Quindi un invito assolutamente e ovviamente che fa molto comodo alle tutte le società che vendono, di tutte queste persone che continuamente osservano prodotti, quindi vanno su pubblicità e quindi favoriscono ovviamente lo sviluppo del processo comunicativo attraverso le pubblicità. Che ovviamente hanno un costo ma loro non lo sanno o forse lo sanno ma non gli interessa. E tutto questo ovviamente corrisponde poi un vantaggio per tutte quelle che sono le società di servizio. Ecco queste sono le scene a volte veramente raccapriccianti come questa ragazza che vedete qui nel mezzo, dove addirittura è coperta da un cappello, da una mascherina, quindi proprio isolamento totale da quello che è il contesto nel quale si trova. Tutto questo è poi favorito anche da una forte robotizzazione di alcuni contesti. Ad esempio nei grandi aeroporti, se voi andate ad Aneda o andate a Narita eccetera, che cosa vedete? Che le hostess sono completamente scomparse. Ora l'hostess è questo bellissimo piccolo robot che come voi comunicate il vostro numero di prenotazione dell'aereo, questo robot vi dice buongiorno, vi dice addirittura il vostro nome e vi ricorda qual è il volo che dovete prendere e dove state andando. Ecco, quindi c'è ormai una comunicazione esclusiva di tipo meccanico non più empatica. Ecco il tema dell'empatia è scomparso veramente completamente. Ecco su questo adesso si stanno interrogando tantissimi studiosi, soprattutto che osservano l'evoluzione della società e di come invece questa società non sta evolvendo, ma sta involvendo e quindi tutto questo sta arrecando veramente grandissime, provocando grandissime preoccupazioni. Tanto che non solo nelle scuole ad esempio appunto vengono evitati gli usi eccessivi o addirittura proprio completamente evitati, l'uso di internet, l'uso dei computer, l'uso di qualsiasi sistema che possa favorire l'isolamento della persona. E dall'alto e quindi soprattutto perché? Perché si sta verificando un fenomeno veramente drammatico, cioè che quello della perdita di creatività, la capacità creativa, lo sviluppo di pensiero critico, ma addirittura molti giovani stanno dichiarando di non saper più scrivere, cioè non sanno più tenere in mano una penna e quindi scrivere. E questo è veramente drammatico. Poi soprattutto in un paese che come sapete la scrittura è la rappresentazione della cultura di questo paese. Quindi è veramente impressionante l'idea che qualcuno non sappia più rappresentare se stesso. Ecco, tutto questo sta portando a fare osservazioni molto interessanti e qui entro più nel mio ambito, perché ad esempio la mia facoltà, che è una facoltà di ingegneria e designer, sta analizzando in questo periodo il concetto di città all'interno di queste grandi aree metropolitane dove ovviamente vivono milioni di persone perché si sono spostate dalle aree rurali per venire ad abitare e a vivere nelle aree più urbanizzate, ovviamente si sono creati dei contesti urbani veramente impressionantemente invivibili. E quindi adesso si sta cercando invece di rifare un'analisi di questi contesti e di vedere come la relazione che poi tanto era importante in Giappone tra quello che era il costruito e il paesaggio e così come possiamo qui vedere alla nostra sinistra una città nord-europea, perché adesso vengono appresi addirittura modelli stranieri per capire appunto questa relazione e dall'altro la città che muore, la città che muore che è appunto una città come Tokyo, una città come Osaka, una città come Niigata, eccetera, eccetera. Cioè sono tutte città che per la quantità enorme di abitanti ma soprattutto per la impossibilità di rimettere al centro l'uomo con i suoi valori e le sue opportune empatie e sentimenti. E quindi la città muore, ma la città muore anche perché adesso anche a seguito della pandemia, come vedete questo è un articolo che è uscito pochi giorni fa sulla Niigata del World in Giappone, qui il giornale, insomma la televisione, anche principale nazionale e che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che le grandi aree, i grandi distretti finanziari, i grandi distretti imprenditoriali, eccetera, sono ormai vuoti. Sono ormai vuoti, gli uffici sono vuoti. Sono vuoti perché? Perché le persone, un po' perché lavorano a casa, un po' le persone sono andate via da Tokyo. Perché pensate che una città come Tokyo è composta da 35 milioni di abitanti, cioè la metà della popolazione italiana, è rappresentata dalla maggior parte di abitanti, da persone che non sono di Tokyo, ma sono di altre regioni, di altre prefetture del paese, che quindi sono arrivate a Tokyo. Adesso durante la pandemia hanno fatto rientro nelle loro terre di origine e quindi si sono svuotati interi quartieri, si sono svuotati in questo caso interi distretti economici, perché le stesse compagnie oggi non lavorano più nella città, lavorano fuori. Ecco, la realtà di molti uffici oggi a Tokyo, nonostante, vi ripeto, non ci siano stati i famosi lockdown che abbiamo visto in Italia o in Europa in generale o anche in altri paesi del mondo, in realtà la situazione attualmente è questa. Quindi con oggi un supporto, in questo caso, della tecnologia che mette a grave e in rischio un altro sistema che è quello economico delle città. e quindi anche questo è un altro interessantissimo tema su cui vale la pena assolutamente poi parlare in futuro. Adesso quello che io invece volevo qui evidenziare anche concludendo questo mio intervento è che un programma interessante che si è sviluppato qui in Giappone è quello della Society 5.0, che è un programma che mette al centro le persone nel tentativo di creare una società intelligente. Lo fa attraverso l'Agenda 2030. Infatti il programma è stato proposto proprio dal Giappone nel 2015 quando i paesi aderenti alle Nazioni Unite hanno firmato l'applicazione dell'Agenda 2030 e quindi i 17 obiettivi che bisogna perseguire e raggiungere entro il 2030 e da qui in Giappone è iniziato un lavoro molto interessante anche con programmi televisivi. Ci sono moltissime attività anche all'interno delle università sull'applicazione di questo programma. Un programma che rimette assolutamente al centro la persona attraverso la sua libertà, attraverso le opportunità, le opportunità soprattutto di tempo libero che gli vengono garantite dal fatto che adesso un sistema di intelligenza artificiale può fare un certo tipo di lavoro che prima invece era richiesto esclusivamente all'uomo. Ora, questo tempo non vede però la disoccupazione, cioè vede semplicemente l'aumento di tempo libero da parte delle persone e non c'è qualcosa che ha soppiantato del tutto l'uomo, c'è semplicemente che l'uomo è stato messo a fare cose di maggiore produttività, soprattutto di maggiore produttività legata alle caratteristiche proprio umane ed empatiche delle relazioni umane. Quindi qualcosa che non richiede questo sistema, come ad esempio, vi faccio un esempio molto banale, le casse all'interno di un supermercato, quasi tutte sono ormai casse automatiche. Non per questo viene meno il fatto che qualcuno vada al supermercato a comprare, anzi, però sistemi che non ritroviamo ovunque, così come ad esempio ci sono tantissime istituzioni, penso alle poste, ad esempio al sistema delle poste, penso alle banche, penso a tutte queste grandi istituzioni che invece non hanno assolutamente questo sistema di informatizzazione, dove ancora è richiesto e vuole essere confermato il rapporto sulla persona, così come la sanità, ad esempio, tutto quello che riguarda la sanità e soprattutto tutto quello che riguarda l'educazione e l'istruzione. Quindi questo programma consente di verificare, a seconda dei casi, l'opportunità o meno di intervenire con un processo di tecnologizzazione. Ecco, quindi la Society5.0 è quella che mette al centro la famiglia, mette al centro i valori delle persone, per dare conforto, per garantire ovviamente una qualità di vita, per garantire una qualità della salute, eccetera, attraverso dei supporti esterni che sono anche gestiti dal supporto tecnologico. Ma non del tutto, non del tutto. Ecco, questo ve lo confermo proprio in relazione a una vita quotidiana che qui ha molto a che fare con questa doppia, con questa avvivalenza, tra un mondo fortemente conservatore e un mondo invece fortemente incentrato sulla tecnologizzazione. Proprio in questi giorni, ad esempio, vedevo il nuovo grande, bellissimo treno dello Shinkansen che tra un po' entrerà in azione qui a 600 km di orari con un treno che appunto consente di percorrere mezzo paese in un'ora. E quindi capite bene anche i grandi vantaggi che se ne ricavano nelle comunicazioni e di come uno non necessariamente per lavorare deve stare a Tokyo ma può stare tranquillamente a 600 km la mattina andare a lavorare oppure utilizzare ovviamente il lavoro da casa. Ecco, tutto questo controllo consente questo sistema anche poi di fare molti controlli soprattutto su quello che è il territorio. Questo paese è un paese ad esempio particolarmente sismico, come sapete. Ci sono sismi tutti i giorni, questo ve lo posso assicurare. Ci sono mesi in cui ci sono fortissimi fenomeni monsonici e anche molto molto pericolosi per cui questi sistemi aiutano ad avvisare le persone sta arrivando un monsone entro quante ore arriva quindi preparati oppure anche sistemi che ci aiutano a percepire quasi in tempo reale l'arrivo ad esempio di scosse di terremoto perché vi ripeto sono quotidiane cioè assolutamente quotidiane anzi io sono arrivata al punto tale che quando non le sento mi preoccupo quindi è questo il tema. A tutto questo poi c'è il tema della ruolo che deve avere l'intelligenza artificiale e auspicano qui molto in Giappone che deve avere ma soprattutto nel controllo di quelli che sono i sistemi del sistema sociale ad esempio tutto quello che riguarda la possibilità e l'ottimizzazione dei servizi della sanità la riduzione ad esempio appunto di pericoli in casi di eventi naturali che qui sono veramente disastrosi e così via quindi un problem solving potremmo dire quello dell'uso di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ecco io concludo qui anche perché spero di non aver oltrepassato il tempo che mi era stato concesso ma spero soprattutto di avervi fornito qualche spunto di riflessione per poter capire come si sta agendo qui in Giappone sul tema appunto della tecnologizzazione dei territori e di come questa relazione tra tecnologia e conservazione però è ancora diciamo tutta da vedere bisogna ancora capire che cosa succederà nel prossimo futuro perché diciamo che ancora prevale la conservazione dei sistemi del passato mentre il Giappone è molto bravo a vendere fuori quello che poi non usa dentro. Grazie infinitamente e auguro buon lavoro e buon proseguimento. grazie 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 grazie